e ci siamo con l'effetto domino di assicuratore facile quello che questa mattina ti farò vedere butta via il telefono stacca tutto quanto concentrati un'ora di formazione pura ti rilascio il distillato dei miei nel 2021 a gennaio inizio il 24esimo anno di lavoro nel settore assicurativo però ho passato gli ultimi otto anni a capire come essere maggiormente utile per gli assicurati avrei anche notato che ho usato spesso mi è venuto il volta stomaco di questo settore perché sentivo che c'erano tanti campanelli che suonavano di cose che non funzionavano e quindi tutto ciò che io adesso ti presento è tutto ciò che funziona amarossica ma funziona ovunque in italia se applicato con l'effetto corretto porta appunto ad avere dei risultati effetto domino partiamo partiamo da quella che è la nostra situazione che è tanti troppi clienti acquirenti rc auto guardi i dati della tua agenzia guardi i dati del tuo portafoglio clienti e io lo so che tanti di voi forse la maggior parte hanno più del 50 per cento dei loro clienti che hanno solo polizze rc auto ma se anche ne hai il 20 30 40 per cento non è un buon dato poi hai una parte di clienti che hanno due comparti due polizze se abbiamo la rc auto con il fatto del conducente come se fossimo qui se invece abbiamo una polizza vita e una polizza rama elementare è già qualcosa però poi abbiamo anche tutti noi fortunatamente i clienti top i clienti che ci rispettano che ci vogliono bene che ci vedono come professionisti non ci vedono come dei ciarlatani a parlare solo di prezzo e se noi facciamo quest'analisi e io l'ho fatta su centinaia di agenzie scopriamo questo che gli introiti sono dati al 20 per cento degli acquirenti rc auto e l'80 per cento invece sono da parte dei clienti top se tu sei iscritto alla palestra sai che il primo modulo è tutto improntato su definisci i tuoi primi top 100 clienti vedrai che ti daranno l'80 per cento degli introiti i 70 60 dipende certo ma capirai comprenderai che la legge di pareto non sbaglia mai ma sai qual è la cosa grave che noi non abbiamo la percezione dell'altro fattore non c'è solo introiti ma c'è il fattore tempo perché questi acquirenti rc auto vecchio mio ci asciugano l'energia ci portano via tutto quanto il tempo che noi non dedichiamo ai clienti top noi non dedichiamo il tempo ai clienti top perché siamo concentrati ad arretta agli acquirenti rc auto compresi tutti quelli che vengono a chiederci anche i preventivi cioè capisci ti rendi conto di qual è questa situazione che è drammatica che stressa le persone porta via energia le persone e non sto parlando del sol della sola persona è tu guarda la tua intera struttura nella sua complessità quante risorse tempo dedica a sta roba qua a sta foglia qua rispetto ai clienti che in realtà meritano tempo energia attenzione come possiamo venendo fuori come possiamo svoltare ma è molto semplice ma molto semplice promuovendo una sola azione concentrandoci su una diagnosi dei rischi che individua e quantifica le criticità di ogni singola persona invece di avere un fronte aperto enorme dove ho la polizia dei fortuni la polizia della casa polizia del gatto la polizia del cane la polizia dell'azienda la polizia del professionista 110 bonus adesso tutti quanti a fare 110 tutto il vita adesso ci siamo messi a vendere cuscini macchine energia e di tutto di più quindi faccio tutto a tutti tutto male ma sai che c'è un grande problema il grande problema che una grande opportunità che dal primo di aprile del 2021 quindi dopo domani ivas con il regolamento 45 2020 ma ti schianta perché dice tu devi conoscere molto bene le soluzioni che promuovi quindi se ne promuovi tante è impossibile conoscerle bene devi spiegarle molto bene al cliente e devi spiegarle anche in via continuativa e controllare in via continuativa che queste siano adeguate come fai a farlo se ti spalmi su tutti i prodotti è impossibile e quindi è molto più semplice dire guarda tu mi puoi chiedere il preventivo mi puoi chiedere informazioni no 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 io se non parto da una diagnosi non vado a nessuna parte è un obbligo di legge è molto più semplice comunico e metto in vetrina invece tante polizie che non servono a nulla le polizie non servono a nulla le polizie se non c'è un progetto non servono a nulla io metto in vetrina una unica soluzione che io parto sempre solo da raccogliere dati e farti vedere quali sono le criticità fine non faccio altro questo è il mio punto di partenza imprescindibile se noi abbiamo questo patto allora diventa tutto più semplice perché qui iniziamo a mettere giù le procedure che portano ad un grandioso effetto domino e allora se ci capiamo e ci accordiamo che il compito primario di un'agenzia tutta non c'è un'agenzia ci sono i venditori e poi c'è il back office su cacciate le cose degli anni 90 tristi vecchie tutta l'agenzia deve rimare mare in un'unica direzione se i tuoi collaboratori non sono collegati stamattina è perché mi frega niente di te non mi frega niente la tua visione mi frega niente se non prende lo stipendio questo questo è un dato triste nonostante siamo nel 2020 in pieno lockdown con dei problemi enormi e noi che abbiamo la fortuna di essere anche una considerata un'attività essenziale dovremmo un attimino a svegliarsi e capire come essere maggiormente utili per i nostri assicurati e lo possiamo fare esclusivamente attraverso questa attività profilando le persone perché grazie a una corretta profilatura adesso vediamo tutti i dettagli io posso effettuare una comunicazione specifica per quel profilo di cliente ma soprattutto comunicare qual è la persona specializzata a gestire i rischi di quel specifico profilo di cliente ma soprattutto che la cosa più importante inizia a rispettare quello che l'articolo 45 2020 di ivas imporrà dal primo aprile del 2020 e quindi se abbiamo capito che faccio solo una cosa che bisogna partire dalla profilatura per smistare i 2000 3000 5000 10.000 20.000 clienti i troppi clienti che avete in agenzia tutti tutti abbiamo troppi clienti in agenzia dei quali conosciamo veramente poco e allora partiamo da qua partiamo con tre facili domande per profilare correttamente un cliente e questo dovrebbe essere l'abc di ogni tuo collaboratore di ogni tua impiegata se è il front office invece di proporre l'unitile polizze in funzione del conducente dovrebbe fare questa domanda è un target che ha tra i 30 e i 60 anni perché lo vedo davanti al mio cliente faccio la domanda lavori o siamo tutti a reddito di cittadinanza lavori ma io ti faccio una domanda guarda qua ma se io recuperare passi il tuo estratto conto previdenziale per te che è questo è questo documento dove c'è lo storico di tutte le assicurazioni obbligatorie che tu hai versato da quando hai iniziato a lavorare ti faccio una domanda quando hai iniziato a lavorare nel 1998 allora ascolta guarda con l'estratto conto previdenziale io faccio il lavoro di decifrazione non so neanche si dice così contributi dove ti riporto tre macro risultati uno controlliamo se hai avuto degli ammanchi sai perché tu hai iniziato a lavorare nel 1998 ma sei sicuro che i contributi siano stati versati quando facevi lavoratore dipendente perché è meglio scoprirlo adesso ci sono ammanchi contributivi non quando ti mancano sei mesi per andare in pensione fidati due se hai versato su casse diverse ad esempio questo è stato estratto conto previdenziale è di una persona che ha versato su tre casse diverse perché ha fatto tre lavori diversi e quindi sto rischiando di perdere i soldini oppure va tutto bene se sono preparato e formato facendo la palestra so esattamente di cosa sto parlando e l'ultimo risultato è quanti soldi sono il totale che si è rivalutato di tutti i contributi a quanto ammonta il totale quindi ti piacerebbe sapere se ci siamo persi i contributi se hai versato su casse diverse se hai rischi di perdere soldi e di capire quanto è il totale che ho maturato perché arriviamo a un altro risultato perché in questo modo io ti dico quali sono le prestazioni che tu hai già garantito con lo stato pensione di invalidità inabilità e superstiti e sapere che faccio questo perché un obbligo di legge perché altrimenti io non posso assolutamente proporti qualsiasi polizza casaccio se non sul tuo effettivo fa bisogno e quindi già solo con questa domandina e spiegando questi passaggi io faccio vedere al cliente dal primo del front office all'ultimo dei collaboratori le persone che sono in carriera lavorativa ecco il servizio che io do come agenzia ti recupero nel stato conto previdenziale ti faccio vedere se hai ammanchi se contributi su casse diverse se hai rischi di perdere i soldi il totale che hai maturato di polizze obbligatori probabilmente sono la maggior parte dei risparmi che una persona ha ma non sa neanche di avere per capire quali sono le prestazioni che tu hai già e cosa ti manca cosa devi integrare i dd al mille per cento spiegata in questo momento e tutta la tua struttura se vuole avere futuro dovrebbe iniziare da qua non ci sono le garanze vuoi continuare il targa prezzo o fa sta roba qua perché sai qual è la cosa interessante che facendo questo tipo di attività questo tipo di comunicazione diventiamo interessanti invece di essere fastidiosi e di essere evitati iniziamo a essere interessanti e diveremo in questo modo anche ricercati questa è la prima domanda passiamo alla seconda ma scusa posso chiederti una cosa ma tu sei sposato ai figli minori perché se la pensione di superstiti è il caso di conoscerla prima che accada qualcosa perché altrimenti sapere dopo potrebbe essere un dramma e quindi una minima profiliatura cioè perché abbiamo una persona che è specializzata nel gestire i rischi dei genitori con figli minori ti fanno scrivere un testamento sai perché se una persona viene a mancare che senso ha che un figlio minore gli vada in mano la macchina che non può guidare soldi che non può governare e aziende che non può condurre cioè due righe scritte sono gratis non è che uno deve mancare ma se noi aiutiamo le persone a gestire i rischi correttamente dobbiamo essere connessi con il cervello capire quali sono i problemi e sviluppare soluzioni compreso partendo da le comunicazioni per catturare appunto l'interesse e dopo quello che è la tua situazione patrimoniale ma io lo sai che io con tutte queste informazioni sai cosa riusciamo a produrre consapevolezze per il cliente possiamo produrre sta roba qua delle diagnosi bellissime che fanno vedere alla persona quali sono le criticità che potrebbero distruggere la sicurezza economica addirittura possiamo far vedere la specifica per la diagnosi sul reddito e quindi questo è il mio unico contratto che faccio firmare questo è il mio unico contratto è un mandato per recuperare stato conto previdenziale per collegarmi a catasto per fare quello che l'idd mi chiede dai informazioni sui problemi del cliente in modo specifico e poi sviluppa una soluzione che sia realmente adeguata utile a quel tipo di persona quindi ti sto dicendo cosa ne dobbiamo fare per legge e se lo facciamo vinciamo perché tanto il settore è talmente terra a terra cioè professionalità professionista e poi siamo tutto quanto targa prezzo targa prezzo dammi sconti io ti faccio bene dai 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 allora quali sono i migliori profili i migliori profili il miglior profilo in assoluto è questo deve esserci questo binomio le persone responsabili perché sono un disgraziato non vi fai cambiare idea quindi io voglio parlare con persone per bene con persone responsabili che hanno grandi responsabilità va insieme se una persona è responsabile non ha una responsabilità facciamo poco se una persona ha grandi responsabilità però è un irresponsabile è un disgraziato c'è cosa vuoi che li facciamo secondo te è una persona che è disposta a guidare con il minimo di legge se potesse guidare senza polizia ricerciato ma posso io parlare se posso parlare con lui di gestione dei rischi no però guarda che in italia ci sono anche tante brave persone invece hanno vogliono e te lo dimostrerò questi tipi di soluzioni allora quali sono nello specifico persone responsabili con grandi responsabilità ma partiamo da profilare mi arriva una persona che ha tra i 30 60 anni in agenzia è una persona lavori hai un reddito da difendere il tuo capitale umano è fondamentale ti piacerebbe sapere qual è la pressione in verità in abilità superstiti è un servizio che noi facciamo ai nostri clienti quanto costa questo servizio decidiamo insieme un po alla volta prima farlo gratuitamente quando divento bravo e poi farlo pagare giustamente sempre con garanzia soddisfatti rimborsati prima ti faccio tutto il lavoro se l'informazione che io ti ho dato ti salveranno la vita dal punto di vista finanziario allora è giusto che venga pagato altrimenti non mi paghi ma qui c'è scritto grande che mi paghi solo alla fine solo se sei se sarai estremamente soddisfatto oppure genitori con figli minori che responsabilità hanno ma è qui è come rubare le caramelle i loro bambini ci voglio dire gli fai vedere ma scusa ma tu mi stai dicendo che hai un bambino uno di sei anni e uno di tre anni e non ti preoccupi di sapere se in caso di imprevisto lo mandi sotto un ponte gli negli in futuro ma che razza di genitore sei è uguale per chi fa professioni a professioni a tutti i professionisti che hanno delle grandi responsabilità cosa dice l'articolo 27 40 del codice civile e poi ci sono tutti gli imprenditori quindi una scala di risposta tutti i target super interessanti tutti gli imprenditori sai qual è l'imprenditore non è quello che ha il bar sotto casa che è lui che lavora perché vuole essere autonoma non avere un trattore di scatole ma se tu parli con imprenditore che ha dai 20 30 dipendenti su sai qual è la sua più grande paura è quella di non riuscire ogni mese a garantire il reddito lo stipendio a 20 30 40 50 famiglie non ha i profitti dell'azienda sono passati in secondo piano scrive a parlare queste persone qua hanno delle responsabilità addosso che sono micidiali se sbagliano si schiandano l'azienda possono lasciare per strada 20 30 40 50 famiglie ma lì sul paesetto vengono anche umiliati per questo hanno grandi responsabilità se sono persone responsabili e tu gli dai degli strumenti delle soluzioni dei processi per gestire correttamente l'azienda hai voglia hai voglia che ti ascoltano ok quindi in base alle competenze io mi specializzo ma tutto il front office che non deve chiamarsi front office dovrebbe essere orientato a capire che profilo abbiamo qui davanti e mandarlo il professionista questo dovrebbe l'unica attività non c'è un upsell in crosselli stranzate varie dovrebbe esserci un grande lavoro di profilazione perché me lo chiede ivas me lo chiede idd grazie 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 grazie